Ma mi ha detto un uccellino, un uccellino, che c'è un fidanzatino nella tua vita. Gregorio. Gregorio. È bravo? È anche bello? Ed è in classe con te? Domani vado a casa sua. A casa sua a giocare? Domani. Domani. Va bene, domani. Vuoi dire qualcosa alla tua mamma? No. È bellissima la tua mamma, vero? E la zia? Scusa, no. Abbi pazienza, scusami. Sì. Ah, ecco. Anche la zia è bellissima. È un po' pazzerella la zia? Anche il nonno. Certo, amore. Tutti, tutti bellissimi. Ma, mamma, mi voglio togliere le scarpe. Hai un vestito stupendo. Ti vuoi togliere le scarpe? Beh, si vede che si sente a suo agio. Sì, sì, sì. Lei viverebbe sempre così, è vero, amore? In verità non scivolare, però. Sì. Ma tu da grande cosa vuoi fare con questa parlantina? Ah, vai a fare una sfilata? Vuoi camminare? Dai, vai. Nikki, che lavoro vorresti fare da grande? No, Nikki, non corriamo. Ok, non correre che cadi. Vieni, vieni, vieni. Ah, non corri. Ah, scusa, io ho sempre paura. Ura. Grazie. No vi. Grazie. Grazie a tutti